innovators talks dove si vive l'innovazione ma che cos'è il purpose anche se una parola o meglio un concetto che sempre più spesso viene pronunciato nelle organizzazioni pubbliche e private non è sempre chiaro a tutti quale sia il suo significato fare chiarezza sul purpose cioè il motivo fondante la ragione prima per cui un'azienda esiste è l'obiettivo che mi ha spinto a creare questa mini serie di quattro episodi chiamata appunto purpose stories incontreremo amministratori delegati di aziende italiane che vivono il purpose in modo profondo e sentito e proprio per questo sono in grado di generare un impatto positivo nella società grazie anche a risultati superiori alla media del mercato ecco perché il purpose è così importante io sono alessandro polidori vidal il direttore marketing e comunicazioni di polimi graduate school of management la business school del politecnico di milano e in questo primo episodio incontro lara ponti amministratore delegato del gruppo ponti ponti è una società benefit un'azienda storica fondata nel 1787 ben 230 anni fa oggi è leader in italia nel settore degli aceti sottaceti e sottolio che con oltre 120 milioni di fatturato e 200 dipendenti detiene oltre il 50 per cento del mercato italiano ed esporta in più di 70 paesi nel mondo ciao lara benvenuta e grazie di essere qui con noi ciao alessandro grazie a te per l'invito lara come ho detto l'obiettivo di questo podcast è proprio quello di fare chiarezza sul purpose spiegare che il purpose non è solo ambiente non è solo impatto sociale e non è solo innovazione sostenibile iniziamo da qui che cosa significa davvero purpose per il gruppo ponti purpose per noi è essere un'impresa che crea valore non solo per gli azionisti quindi per noi ma anche per le persone che lavorano con noi per i clienti per i fornitori per i territori e la società in cui viviamo le imprese sono degli attori sociali e come tali devono prendersi devono assumersi questa responsabilità assumersi questa responsabilità dal mio punto di vista vuol dire che possono e devono lavorare contribuire al miglioramento e allo sviluppo in questo senso per noi creare valore vuol dire ampliare le opportunità per tutti costruire maggiore equità attraverso trasparenza nei processi maggiore inclusività e vuol dire anche rimuovere gli ostacoli nel senso che non è sufficiente creare le buone opportunità ma le culture naturalmente producono diversità gerarchie eccetera le imprese secondo me sono un buon luogo in cui sperimentare invece degli ambienti in cui si può si possono influire si possono mettere in piedi delle politiche delle modalità differenti e quindi questo è quello su cui lavoriamo cioè tradurre quel creare valore in azioni quotidiane all'interno dell'azienda alla fine il purpose è lo scopo in italiano è lo scopo lo scopo ultimo lo scopo finale io peraltro credo che nelle imprese non cominci dalla nascita ma si creino si si costruisca man mano che l'azienda da bene privato diventa un bene sociale nella misura in cui dal suo destino dipendono il reddito il benessere di molte altre famiglie certo assolutamente se non ricordo male nel 2010 no diventi amministratore delegato e da subito indirizzi diciamo l'azienda verso il suo purpose incentivando una produzione sempre più sostenibile responsabile in grado di generare un impatto come appunto ci stavi dicendo sul territorio sui dipendenti ecco la domanda che avevo è per un'azienda diciamo come ponti da sempre leader nel suo settore quanto è stato difficile comunicare un cambiamento a centinaia di dipendenti che erano già esperti di successo e quale cambiamento hai notato diciamo nella loro mentalità nel loro modo di lavorare allora intanto faccio una piccola correzione nel senso che io sono entrati ho avuto un'esperienza esterna sono entrata in 2010 in azienda ma di fatto quello quello che è successo è che io ho portato alla luce esplicitato qualcosa che era nel dna dell'azienda nel senso che appunto il purpose in un'azienda non si crea da un giorno all'altro ma delle radici profonde così come la sostenibilità sono processi che si costruiscono nel tempo e quindi per la nostra famiglia erano già valori centrali molto molto forti per questa ragione non è stato per niente difficile comunicarlo nel senso che in fondo è stato semplicemente esplicitare dare una cornice teorica a un modo di fare di agire che era già nella pratica che era già nella pratica di tutti i giorni forse il l'elemento che più è cambiato diciamo è un po il verso dell'appartenenza se posso il colore dell'appartenenza se posso dire perché la nostra è un'azienda che appunto avendo anche dimensioni limitate nel senso che noi abbiamo 220 dipendenti quasi tutti agm ma comunque anche gli altri stabilimenti sono abbastanza piccoli c'è sempre stato un una dimensione di appartenenza molto forte costruita su sul rispetto e la fiducia reciproca quando abbiamo esplicitato e diciamo che il passaggio è stato quando siamo diventati società benefit perché diventare società benefit vuol dire assumere nello nello statuto che accanto al beneficio economico ci sono anche dei benefici sociali quindi diciamo è un sigillo anche formale per i dipendenti per le persone che lavorano con noi è stato appunto poter riconoscere condividere ciò che già tutti facevamo quindi qualcuno ci ha detto sapevamo cosa facevamo oggi abbiamo più chiaro anche come facciamo penso anche che non sia stato difficile perché come dire siamo tutti noi siamo figli e figlie del nostro tempo e quindi in questo momento il tema di dare un significato più profondo al alla propria dimensione professionale al proprio agire nel mondo è molto sentito e quindi in qualche modo con con questo passaggio abbiamo anche colto una sensibilità un bisogno un desiderio da parte da parte delle persone però appunto secondo me non è un tema di difficoltà perché è qualcosa che si costruisce nel tempo si costruisce con le azioni con la quotidianità con e poi anche sicuramente con l'esplicitazione col dire che cosa si sta facendo. Cioè diciamo che forse un po' i dipendenti si sono quasi come dire immedesimati in qualcosa hanno diciamo riconosciuto qualcosa che in qualche modo già sentivano loro. Sì sì secondo me rispondeva appunto al risponde al desiderio delle persone di poter fare qualcosa in un momento come questo in cui è chiaro qual è l'impatto delle aziende quali possono essere degli aspetti positivi e negativi e incorporare quel fare qualcosa all'interno del proprio agire quotidiano no quindi non è qualcosa in più è qualcosa che integra ciò che io faccio per per vivere sostanzialmente. Certo generare impatto è un processo lungo no nel senso che insomma richiede dedizione energia focus mi domandavo c'è stato un momento in cui ti sei resa conto che le azioni progetti sul purpose stavano davvero creando un impatto concreto tangibile sui dipendenti sulla società o sull'ambiente? Allora detto che appunto creare impatto è un processo lungo e quindi io credo che l'impatto lo vedremo lo vedremo tra tra qualche anno soprattutto quelli ambientali e sociali no i cambiamenti richiedono tanto tempo forse la dimensione su cui è più facile vederlo è quello delle delle persone perché il il modo in cui si sta in una comunità come quella aziendale cambia risente no il clima risente quindi un tema sicuramente è stato quello dell'appartenenza di cui parlavo prima questa questa percezione di non solo essere legati da relazioni da dimensioni affettive relazionali di scambio ma anche di avere uno scopo comune quindi di stare lavorando tutti nella stessa direzione un caso concreto forse è stata la due anni fa l'anno scorso abbiamo fatto una formazione agli under 35 che oggi sono il 25 per cento della nostra forza lavoro perché avevamo bisogno di costruire un legame tra di loro che si conoscessero che avessero una visione complessiva sull'azienda e l'abbiamo fatto appunto mettendo in pratica ciò che diciamo no quindi costruendo un contesto formativo partecipativo in cui sicuramente la direzione diceva delle cose ma raccoglieva anche tutta una serie di input da parte delle delle persone dei dei giovani e delle giovani ed è stato molto potente secondo me è stato molto potente per noi perché ha voluto dire toccare con mano quanto poi le persone comprendano l'azienda comprendano il valore abbiano voglia di fare e anche quanta freschezza quanta capacità di aprire portano ed è stato potente anche per loro perché è stato evidente che si sono sentiti visti si sono sentiti riconosciuti questi la li ha attivati tant'è che oggi abbiamo ancora tutta una serie di gruppi interni che lavorano su oggetti specifici chiaro quindi un bel riscontro diretto da parte proprio degli interessati insomma beh innanzitutto grazie per avere comunque condiviso con noi momenti proprio di vita vera insomma della dell'azienda ecco da ultimo mi chiedevo un po pensando al futuro come ti immagini si potrà vivere il purpose in ponti diciamo non so tra una decina d'anni quando probabilmente il mercato globale sarà sempre più sensibile a questi temi e molte aziende probabilmente li seguiranno anche con più attenzione rispetto ad oggi ecco come farà il gruppo ponti a mantenere la sua leadership in questo campo beh intanto io penso che non ci sia un tema di leadership in questo campo nel senso che la competitività si gioca su altre dimensioni sul tema della purpose e del senso che l'impresa deve avere penso che invece il livello sia collaborativo cioè più aziende ci saranno che avranno questo questo approccio più forse il mondo economico sarà migliore potrà produrre effetti effetti positivi quindi non so come dire penso che questo è un elemento della leadership perché sicuramente le aziende che possono contare su questi valori hanno una capacità di resistere alle crisi e di essere generativa più forte noi questa cosa l'abbiamo vista tantissimo nel covid nel covid in cui appunto sentivamo tanto si è sentito no tanto fermento tanta insoddisfazione da parte delle persone per noi in realtà è stato un momento di grande di grande compattezza di capacità di resistere a sfide anche molto concrete tipo quelle logistiche la difficoltà a consegnare eccetera proprio perché per la disponibilità delle persone perché le persone riconoscevano che avevano un progetto comune quindi è un elemento della leadership non so come dire perché produce degli effetti ma poi io credo che la leadership delle aziende si giocherà sempre sulla qualità dei prodotti sulla capacità sulla capacità di innovare non vogliamo entrare in competizione con le altre aziende su questo tema perché questo tema invece deve essere quello che ci lega che ci unisce in questo senso noi siamo diventati da poco B Corp e quindi appunto le B Corp fanno parte proprio di un movimento che si impegna per per costruire un'alleanza e non per come dire competere su questi temi. Certo vero. Clara grazie di cuore per essere stata nostro ospite. Grazie a voi per avermi invitato è sempre interessante riflettere su questi temi insieme ad altri. In questa puntata abbiamo ascoltato la storia sul Parpos del gruppo Ponti azienda leader in Italia e nel mondo nel settore agroalimentare ed esempio virtuoso di come il Parpos possa innovare continuamente una realtà storica già di successo e tenerla sempre un passo avanti rispetto al mercato. Continua a seguirci a vivere il Parpos insieme a noi visita il nostro sito www.gson.polimi.it oppure ascoltaci sulle migliori piattaforme di podcast. Grazie di averci seguito un saluto da Alessandro Polidori Vidal e da Polini Graduate School of Management. Innovator's Talks dove si vive l'innovazione